Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti, senza limite di spesa, accumulabile con le offerte in corso su Pumpling. La felpa che indosso, ma la conoscete, la mia preferita, la trovate su Pumpling assieme a tantissime altre di tanti altri fandom, trovate anche le mascherine riutilizzabili, trovate anche le magliette, trovate i calzini, trovate di tutto, quindi link in infobox. Sempre in infobox trovate anche la mia vetrina Amazon, un negozio realizzato da me in collaborazione con Amazon, dove ho selezionato tutti i prodotti potteriani che vi ho mostrato e tutti i prodotti potteriani che spero di mostrarvi in futuro qui sul canale. Ragazzi, ma adesso vando alle ciance perché voglio continuare il discorso che avevamo iniziato con la valutazione della saga di Harry Potter, dei primi 7 volumi, di tutti e 7 volumi. Oggi voglio parlarvi della valutazione della biblioteca di Hogwarts e, come l'altra volta, voglio cominciare dai volumi più recenti. Quelli più recenti, quali sono? Sono le versioni illustrate, quindi abbiamo la versione illustrata di Animali Fantastici, quella del 15 attraverso i secoli che è uscita nel 2020 e poi quella delle fiabbe di Bedelbardo. Ragazzi, questi tre volumi sono recenti. Le fiabbe di Bedelbardo e il 15 attraverso i secoli li trovate tranquillamente anche su Amazon, li trovate ovunque. Invece, Animali Fantastici comincia a diventare un po' difficile da trovare. Spulciando per bene su internet, non su Amazon, ma su altri siti, magari su IBS, sul libraccio, con un po' di fortuna si riesce ancora a trovare qualche copia. Ma comincia a diventare abbastanza difficile da trovare, quindi qualora voleste cominciare ad acquistare questi tre volumi, vi consiglio di cominciare da Animali Fantastici e poi passare agli altri. Andando adesso invece nel 2017, troviamo l'ultimo cofanetto che trovate ancora disponibile su Amazon, ve lo linko in info box. Questo cofanetto contiene tutti e tre i volumi e si tratta del cofanetto che io ho ribattezzato Drago, perché c'è questo Drago sull'immagine di copertina sia del cofanetto che della versione di Animali Fantastici e dove trovarli. E poi abbiamo anche il 15 attraverso i secoli in edizione con la copertina azzurra e le fiabe di Bedelbardo che invece hanno la copertina in rosso. Questa edizione si trova su Amazon, questo cofanetto ha circa 30€, quindi 10€ per ogni volume. Questo ancora reperibilissimo. Invece andando ancora indietro nel 2015, ecco che troviamo un'altra edizione, un'edizione un po' più vecchia naturalmente, e si tratta dell'edizione con le tre copertine di colore blu, rosso e verde. In questo caso abbiamo in colore blu le fiabe di Bedelbardo e in questo caso questa copia vale circa 20€. Poi abbiamo in rosso invece il Quidditch attraverso i secoli e in questo caso vale circa 20€, mentre invece Animali Fantastici e dove trovarli, che è praticamente andato a ruba quando sono stati annunciati film, eccetera eccetera, quando cominciava a crescere l'hype verso la saga di Animali Fantastici, deve essere appunto andato letteralmente a ruba. Questo volume al momento ha delle quotazioni stratosferiche, ragazzi. Questo volume vale circa 180€, quindi quando vi chiederanno 150, 160, 170€, vi staranno facendo un prezzo onesto per questo volume. 180 è il prezzo medio di vendita, 200 è un prezzo leggermente alto, e quindi state attenti se siete interessati ad acquistare questo volume, potreste fare affari davvero molto importanti trovandolo magari in una libreria di paese perduto tra i libri invenduti e quindi prendetelo al volo perché questo volume vale circa 200€, 180€. Quindi questo è un volume sul quale investire qualora lo trovaste nelle vostre librerie oppure a casa del cuginetto, lo trovate a casa di vostra nonna, magari era un libro che avete letto quando eravate piccoli e poi l'avete abbandonato da qualche parte, recuperatelo perché vale un piccolo gruzzoletto, quindi mi raccomando. Adesso andiamo ancora indietro, facciamo un altro salto, ci spostiamo al 2010 quando per la prima volta vengono rilasciate le versioni cartonate sia di Animali Fantastici che del 15 attraverso i secoli che vanno a completare i tre libri con quello delle fiabe di Bedelbardo che invece uscì ancora prima quello con la copertina azzurra che è appunto la prima edizione delle fiabe di Bedelbardo che è anche quella cartonata, quindi questi tre assieme vanno a formare la prima edizione in versione cartonata della biblioteca di Hogwarts e questi tre volumi hanno dei valori leggermente diversi fra loro se prendiamo in considerazione le fiabe di Bedelbardo, quello con la copertina azzurra, quindi la prima edizione vale circa 30 euro, quindi non ha acquisito grande valore nel tempo mentre Animali Fantastici, quindi quello con la copertina beige, vale circa 50 euro e il Quidditch attraverso i secoli invece vale circa 40 euro quindi tutti e tre questi volumi in copertina rigida hanno un valore di circa 120 euro se riuscite a strapparli tutti e tre per 100 euro è un buon prezzo ovviamente vi ricordo che le fiabe di Bedelbardo versione azzurra è stata rilasciata prima, quindi nel 2008 mentre gli altri due sono stati rilasciati nel 2010 e alla fine andando ancora indietro nel tempo, quindi adesso parliamo delle primissime edizioni di Animali Fantastici e dove trovarli e il Quidditch attraverso i secoli quindi mi riferisco ai due libretti brossurati quello con la copertina rossa Animali Fantastici e quello con la copertina verde e il Quidditch attraverso i secoli in questo caso il loro valore si aggira attorno ai 50 euro per volume acquistandoli assieme su Ebay magari con un po' di fortuna si riesce a trovarli attorno agli 85-90 euro quindi al momento questi sono i prezzi per tutti i vari volumi della biblioteca di Hogwarts quindi non fatevi infinocchiare, non spendete cifre folli per la prima edizione quindi questi volumetti brossurati o per gli altri volumi che sono diventati un po' rari o anche come lo stesso Animali Fantastici illustrato che è uscito da poco ma che è diventato introvabile e alcuni stanno tentando di rivendere a cifre folli ragazzi non è assolutamente necessario perché probabilmente questo verrà ristampato più avanti a differenza magari di quelli precedenti che non lo saranno ma questo essendo l'ultima edizione disponibile molto probabilmente verrà ristampata quindi state attenti, il mercato del collezionismo è sempre divertente da una parte ma bisogna stare molto molto attenti dall'altra perché è sempre popolato da persone che vogliono speculare sulle cose che vogliono truffare la gente quindi attenti, prima di acquistare, prima di buttarvi nell'acquisto dei volumi magari date un'occhiata a questi video, a questo e a quello precedente che vi lascio nelle schede perché potrebbe esservi d'aiuto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti mi raccomando date un'occhio nell'info box seguitemi su instagram antonio.seria lasciate un mi piace, commentate, campanellina condividete il video con i vostri amici e vi do sempre appuntamento prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao